Ragazzoli belli, benvenuti a tutti quanti su questo nuovissimo video. Anche oggi ragazzi vi propongo un'altra challenge sempre molto bella e molto interessante. Se avete visto il video dell'altra volta, abbiamo portato una challenge dove l'obiettivo era quello di vincere la partita utilizzando solo ed esclusivamente le armi grigie. È stata una challenge molto difficile, però alla fine ce l'abbiamo fatta. Ma oggi proseguiamo con il continuo della challenge, perché ovviamente ora c'è un piccolo upgrade. L'obiettivo di questo video era quello di vincere il game utilizzando solo le armi verni. È stata un pochettino più semplice in termini di cure, perché le cure erano utilizzabili. Però ragazzi fidatevi, è stata una challenge molto molto bella e anche divertente. Ovviamente ragazzi prima ancora di iniziare con il video vi invito da subito a lasciare un bel mi piace a questo video perché vi ricordo che anche un singolo mi piace aiuta tantissimo al canale. Inoltre ragazzi vi ricordo che se volete supportarmi nell'item shop di Fortnite è possibile farlo ed è molto semplice. Basterà andare appunto nell'item shop, cliccare sul rettangolino in basso a destra e andare ad inserire il mio nome, ovvero Cratomist. Quindi ragazzi, grazie a tutti coloro che dicerano di utilizzare il mio codice creatore anche perché se utilizzate il mio codice creatore avrete molta molta più fortuna in questo nuovissimo anno 2020. Quindi ragazzi, non parliamoci di chiacchiere e godetevi questo fantastico video. Mi raccomando, anche se avete degli spas per terra, cerca di non prenderlo perché ricordati che dobbiamo avere solamente le armi verdi. Ok, l'importante è quello. Cassa leggendaria, se mi dà uno spas, rosico. Se mi dà uno spas... Un'arma verde è sicura e non te la dà. No, quella è sicura. Non è venuto nessuno, che sfiga. No, bocchiamo tutti però. La mia prima arma verde? Un R. Oh! Vabbè, L2. A casa. L'altro non ho capito, è scemo. L'altro non ho capito, non so da dove si sta nascondendo. Ma mi raffazzino. Eh, ci so. Aspetta, non posso prendere il pavolo blu. Ok, perfetto. Pateretta, pavolo blu. No, 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 l'ho preso ma l'ho buttata. Non quello. Cattura blu? Scendo. Che c'è questa nascosta? Eh, ma... Ma allassare, mannaccia a te. Allassare. Yeee. Mentira, se vogliamo un po' di gente... Esce fuori, dai. Sì. Oh, ma tu sei impazzita. Oh, che bel game, devo dire. Marca, quanto ho diventato. Mostra, i metti persone che vedi, arriveranno tutte in un'unica botta. Ma sono nel buscio? Oh! Dai, martiglia, basta, per favore. Niente, ragazzi. Ci casca troppo facilmente. Quanto sei in età. Oh, ma è stato! What? Ciccodo. Oh, come? Dai. Ma stai challengeando? Ok. Un'andata. È mio, è mio, la ce la va. Hai flopper? C'è il medic che ti ripara, vai per me. Ce l'ho, ce l'ho. Mi ho tre e ora ne avrò due. Rfg lo prendiamo. Hai razzi per caso? Aspetta. Dieci. Eh, ne avanzano assai, eh? Ne avanzano cinque, tipo. Guarda là davanti. HS. Guarda uno. Yo, brother. Troppo movimento in questo... Cioè, c'è del game in questo movimento, però. Dai, è una taz**a attelata. T'ho pure preso. Ah, la stanno sparando. Uè, se lo hai visto, grido. Non hai grido, assi. Tranquillo, 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 è muerto, parietà. Ok. Spassa rpg viola, quello. Lo so, lo so. Già fatto, già fatto. Ma davvero, non è... No, non sono lì, non sono lì, non sono lì, non si è lì. Non si è lì, non si è lì. Oh, se sei salvato. 104. Vuoi la 104, brother? La 104 per te. All'orizzonte. Non ti ho mai. 20 blu. Dai, dai, dai. 10 people, 10 people. Ololololol. Concentrazione, concentrazione, grazie. No, c'è uno. No, c'è uno. Questo chiamava Israel, 69 di pig. Come si. Yeah. Quello sta ancora giocando. Ma che fai questo? No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, scendi, scendi, scendi. dai 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 giusto quello a terra di lui è sotto, è sotto bianco hello my friend, everything good? dai l'RPG oro barca ma perchè tutta sta roba? oh no no, ho il veniguit vado a build davanti a te ah, barca, barca sono a togliarle questi accadono no, barca, barca è bianco, bianco, te lo giuro dovrei vestire bianco ok, ok allora mi devi restare, questo è il tuo obiettivo vai, 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 vai al primo l'ho distrutto, ve l'ho trappato pure no, dammi i mini tipo tre mini mortacci eh, lo so, dammi qualche mini no, quattro che mi sembra fatti di flopper se vuoi ah, in soli metti blu e chi lo hai? eh, poche cinque ma no, non è un problema io là sono là l'hai spaccato uno è di scelte di brado uno è andato come li hai perso? mi scelta? vabbè, se non si fa passare ricarico all'RPG uno qua sotto lo so, lo so, lo so mi piace sopra? lo sta ok, è l'ultimo guarda, lo lascio lo lascio un c***o l'hai fatto al RPG ora noo ah, lo spas pure ah, lo spas? nooo arca c'ha l'anonimo lo spas e lo rificio sono better? better guarda come il build è better tutta la vita no, no oddio no, no questo sarà un fight super intenso eh? dici quando si mi sa per? no, no ho l'anonimo però buono non credo mi fa la paura? tu mi fai fammi le colpi a R si anaglia che non è maz comunque qua 26 ha preso quindi anche di anche della pompa no, 40 sedans 40 fai fai giocato fai 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 Allora, guarda Mamma mia, questo era proprio un tagliardino, eh è la scena di vero, da fatto Oh, bella Oh, bella